si è ruota e fa girare dai per te drago che fortuna ho visto un drago, ho visto un tipo drago io no che ha il tuo stesso po' no ancora veleno ma perché non mi smetti di mettere veleno trago veleno fuoco devo venire il fuoco vediamo te mi sono un po andando avanti così può sicurare poi sto morendo tutti psico ancora si è riuscito a manegra l'attacco posizio ground ancora non è riuscito quanto è riuscito a rock tipo rock ground a grande vero di terra not game psico non vale due volte stesso ragazzi qua c'è un zap ma è inutile ghiaccio 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 grande sì 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 io è qual è il mio dago si dago c'è 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 già sicuro la maniera su esce puerba a me non mi scende i tipi l'aria che non voglio il tipo di atto e mai le persone vuol dire poi puoi trovarlo e combattimi oltre ho notato questo simple bim che mi fanno diventare gentile un suo mostro devo fare tipo rock forte super efficace questo è il tipo volante ma butto stesso gioco su se le sue mosse di da url per venire fuoco si può morire one shot demonio e 14 giro che non sarebbe male avere un tipo di è mai uscito il tipo di potrebbe potrebbe uscirne way lord riuscito nei problemi brutti che potrebbe uscermi no non di essere bellissimo destetti e bello mi ha fatto metà vita anche se non so perché se a livello 20 o ecco quello stato anche che ho stato il livello 20 di forza strano facciamo proprio la quota più danni mosse team wind e siamo davanti all'uscita vero e ma c'è un allenatore ci che conosce proprio con persia se mi chiede devo costruire la pelle per cui vedere cisco trovare poco tipo davo con visto prima che non scommetto conosco a trovarlo perché è giusto e poco peggio che potrebbe uscermi che scrive tipo psico vero e tipo psico e devo cercare un bravo questo si fa un grande che sperare su un anche questo in fondo eccolo qua agumi maschini non possiamo mostrare il ball comina si fermo le fallimente per poco ma shot di che do fogli così volevo prendere io era un psico grande psico grande e un bravo è già un piccolo e pesa psico ground basta intanto delle premi e bollo si è trovato gumi tutto slugbo intendo niente al mondo a ghiaccio ghiaccio mai entrato gomma io sono davanti posso fare la storia ma ma tu hai chiamato slime una lumaca io non ci sto vedendo se mi trovo uno dei vestiti il tipo colorato con le altre stile no acciaio secolo 8 non c'è uno stand wave lo più mio dio tipo volante ma sono a belle mosse ho già 5 poco ma due quei sui tipo drago di tipo volante questo è un brutto brutto cosa avere due pochi tipo fuoco e volante non parli da ecco che cipo colpiscino colpiscino 21 bingo 7 demonio 15 miss dragoes the sling jam se prende il continuo solo no quando riuscire ancora fuori team rocket che sono lì che bloccano la ecco l'epoca ma da poi sei pronto il slope quindi vendere le code di slope come il primo nella presenza quello che vuole a vendere i teschi di marowak ma allora fanno loro lavoro sei pronto e curati sono tanto la casa dolce del vecchio anche io ci vado parliamo queste persone troppi fra più poco ok seguimi ok ti seguo molto seguito ma io sono stato questo mondo entriamo faccio il vecchio non serve parlarci c'è dice solo che non riesce aiutarci perché si è rotto la schiena la storia e ci vado di un maca così lo porto anche lui due lord ho visto che è riuscito un incontro bellissimo forse anglali ho già battuto un record sto già battendo la seconda è mai sto provando a catturare questo che da un certo c'è la battaglia contro l'ultimo che non è sicuramente mi fa fincare no no lo chiamo il ghiaccio e no ice non occorre poche non vado su charge pin si fa vero che mi ha fatto un botto di donna cosa è scatturarlo certo no no il cerotto da verso fino io faccio ho trovato la prosa della line e adesso ci rivediamo che chi non sa chi è lui se avevate visto al messaggio di poco non fare entro che ti dico conoscete lui è pronto no 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 così non è giusto perché tutti quanti i nostri di volerlo caio greco se prima del blu un po come red muta un caio e poi mimico mi ha fatto un toxic ma se non so che si è tossico ma non mi farà me tossico fusano ramberi di babus niente non mi ha fatto già un po come vediamo se fa malissimo posso saccare sumari sumari ciao toxic può buttare il draco ma non ne so chi potrebbe buttare giù non è solo faccio un mondo ma sono stato fatto del tempo del demonio non sono fa il demonio non morirci non morire c'è il primo è vero ha per futuro lo sacrificato e poco mi se ti parla sarebbe bello quello sarebbe bello ma non lo voglio paper 20 slam e 13 shadow snake mind reader mind reader dai togliamo mind reader e qua la battaglia diventa posta slime potresti fare qualcosa cosa non parla il suo mosso ma chi da un po poi depone non so se qua fa pochissimo il mio poco pepe se è pronto mi stava solo solo l'accurità di che basta l'ho già fatto alle 0 sono venuta a fare a me no a me mi scrivo anche gli attacchi posto che fanno misteri attacchi me li scrivano a ton dove colpisci continuiamo qua la fuille ma se è sul serio che fu io avevo un kairogo come prima poco battere ancora vissuto fatto che non signor ma riscosciuta con le mosse tipo acqua usa la la berry insinio mi scriva l'attacco usato gli attacchi lo scrivo mi scriva ancora l'attacco mi sono chiusa ma questo colpisce e boh non se ne ha butto voi due la polizia se ne fa quanto la bambina se le bambine sarebbero più utili hanno visto i crimini la polizia ci arresto le persone che non hanno fatto niente se non arrivava il detektivo erano messi tre anni in prigione lì io fai il cabbo sono usciti sottovalutare non ho ancora poco tutto 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 ci sono delle posizioni che ho evito già sotto le posizioni ma ok questo bene si possono anche fare la palestra si diremo di riuscire a fare la palestra di tipo con le otto non è rappelente finito adesso a boxe e questo è troppo la palestra si anche io soffi un'altra cosa viene da un'altra cosa come c'è un'altra cosa 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 che si è la nuova che si è in in tutti che speravano questo preso se fosse tipo con le volte così potevamo sotto al lasso non ho salvato tutto tutto da lì la flash water fessuto susa non si può dare sforzata se dai non ho avuto questo perché c'è già di spazio è confermato tante volte la nostra fila nostra palestra sicura al massimo cibi che ancora cura più di una pozione si sa perché ma cura più di una pozione la storia del capo palestra il centro il combattere spazio non è ancora più e poco ma io ho fatto no è in centro no è tutto sinistro è tutto sinistro è sempre tutto sinistro super è morta speriamo che non dice come come ice con mike morta che brutto è bello ma ho cambiato subito dai non c'è tutta la famiglia e so che dopo del tour di tabena o a me lo butto un avverso che ho due mostri super efficace di che usa sta curando da tantissimo ma dai come facciamo a saltare un po con così e cos'è curato il tuo altro classico insicurato come tenete curata mi assicurato figlio di due volte dimoni è veramente scarsa gli flag non ho visto che mi manda di che scarsa youtube non ho sentito poco anche per te su un'inizio già oh my god come faccio a buttarlo giusto qua non gli faccio niente sono massi tipo fuoco e a berli fatti d'orli tolgo solo il beta fa 120 ma deve spero da due tour di inter 125 tra il dato io no no fa 40 è morto a 40 che esce sono più veloce ho usato un quick attack quando basta fai criticare ma sotto i tuoi non si è fatto così tanto male pepe entra a fare ma sono giusto di tutti con una bellissima trago a mer good bye stoffo stoffo questo manco su ultima poco non sussimo misi brutto si e lo so di tipo se dopo le otto di che si ho fatto battuta a grazia pepe che la martellata in testa è bella come la come fatta la faccia grazie youtube rimarrato continuo da aiutare basta parlare di non che non me ne frega a me il cabo che deve un belle mosse che non faccio imparare come questo è un double team e tu la pari qualcuno si la impara tracu ma dei mostri ma io non tacco mai ecco molto attaccato grazie senti c'è un po un po un po fatto a palestino di uscire un mazzo e l'ho combattuta faccio nel livello come non ci fossero domani se io c'ho dei poco come demoni che ogni domani mora con tutti quanti contro tutti anche quelle che non sono efficaci grazie per la high budget e youtube non pensavo un trapo di great ball aggiungere altre funzioni e nelle usate fondamenti capovosto ogni una città c'è sapete non una pozione se c'è io ho preso adesso 5 dell'ex forest dobbiamo andare a foresta vero no fino a questo episodio l'erba non vedi le betta matti e con i po come dire che può vedere come perché o no sto indietro non credi no perché di la palestra si vado anch'io si va bene a vabbè dai lo faccio velocemente facciamo finire video facciamo a battaglotto rivale la battaglia contro rivale giova prima che stava parlando con vedere e così timano che invita giovedì deve far parte di timano perché figli di bo ex boss diretti meno che che sapete giovanni giova giova junior ma giovanni giuno ma non c'è spazio basta parlare combattimi dai combattimi ci si vuole dai col tuo vivi non il medico ti farà una martedì sono così lento dai a due poco messo si è svegliato con una velocità un'altra una trattata tipo auto che mi usa toxic why su toxic quello che deve morire contro prima del fuoco che goodbye vivi non dimori adesso scusa course così salta difesa l'attacco forse dovrebbe cambiare la nostra non me ne manca un sito ci ha fatto come rimetti quel poco modi tipo erba rimetterlo io mi sono così che la fa a posto secondo poco morto e me l'ha fatto guarda madame ha messo del poco che muovi con molti tipo fuoco non posso togliere sì ma parola fa apposta continuo a toglierlo così solo il bled che non è effettivo slime per fare il primo è morto che fa subito stati danni in cui facciano fai costanti danni ha fatto un league ok facciamo mai giochi ecco ma tutto uguale con il pur non l'ha battuto non ho battuto sopravvio un ps pepe 22 full minofolo minoi non ti seguo non ti seguo non posso farci niente che c'è oggi tipo cosa come il compito come il blu che dice questo che tu vuoi cambiare cambiare non posso ammazzarlo non so ne che ci lo so ci vediamo non stava qua fermo qua tu parli con lui finiamo si dai bene ragazzi e per questo episodio è tutto ci vediamo al prossimo e ciao